Allora, andiamo a rivedere prima di chiudere questo ultimo grande finale di Lenny Martinez fianco a fianco con Michael Boots e va via, vince nettamente ai 50 metri, capisce che deve difendere solo il secondo posto Michael Boots. La vittoria di Lenny Martinez, Mont Ventoux Challenge, intanto andiamo a sentire Martinez. La prima vittoria è la prima vittoria professionale e che vincere qui in Mont Ventoux? Sì, è una grande vittoria qui, è la maggior parte di Lenny Martinez, Mont Ventoux, è una salita storica, sono davvero felice per vincere la mia prima gara qui. È possibile vincere, anche se sei solo 19? Sì, sì, perché la ultima vittoria, non la ultima vittoria, non la ultima vittoria, ma la ultima vittoria è meglio per me, perché è più stile, ma anche con questa parte è buona, ma non stile, quindi ho provato, ho provato e vincere. C'è stata una grande battaglia nell'ultimo chilometro, ho detto ci ho provato e ho vinto, non riusciva a trovare bene le parole in inglese. Tu hai aspettato fino agli ultimi centinaia di metri? Sì, ho aspettato, ho aspettato. Sapevo di avere una buona velocità, gli sprint, e poi ho dato tutto negli ultimi 200 metri. E tu vieni contro i grandi ritori come Michael Woods o Simon Kerr, è la maggior parte. Sì, sì, è la maggior parte, quindi Michael Woods è un molto forte rider, oggi anche quando si attacca, quindi sì, sono felice. Sono felice, grandi, corridori, battute. Quando hai capito che hai vinto cosa hai provato? Ho pensato alla mia famiglia, mia mamma, mio padre, tutta la mia famiglia, perché ho detto che credo che tutte le mie famiglie vedono la televisione oggi. Tutta la mia famiglia era davanti alla televisione e ho pensato a loro che mi stavano guardando.